Quando il calcio non è solo fenomeno sportivo ma diventa anche uno straordinario traino di ambito sociale. Quando cioè una creatura di questa città, sia essa persona fisica o realtà societaria, riesce ad unire tutti in un sentimento di amore, allo stesso tempo di orgoglio, per senso di appartenenza a questa comunità. È quello che accade con il gelacalcio che attraverso le sue gesta agonistiche ha riportato in un solo colpo l'entusiasmo in città attorno alla locale squadra e nel contempo gela nel calcio che conta. Perché, parliamoci chiaro, vedere, come è successo domenica scorsa, ben 4.000 gelesi stretti l'uno all'altro a gridare insieme Forza Gela non solo è un fatto eccezionale ma è anche un patrimonio da non disperdere e anzi da valorizzare e capitalizzare con una programmazione seria. Gela che torna nel calcio di ambito nazionale insomma ed è una vetrina che questa città martoriata deve necessariamente sfruttare al massimo ed anche al meglio, facendo cioè tesoro, tra l'altro, dei gravissimi errori commessi nel recente passato ai più disparati livelli per cercare, quantomeno, di non commetterne più e, se possibile, imitare chi, come nella vicina Trapani, proprio grazie al calcio si è guadagnato un posto di privilegio e di prestigio in campo nazionale. Perché è inutile nasconderlo, nessun altro strumento di massa come il calcio riesce a veicolare l'intera immagine di una città, di un territorio e della sua popolazione in giro per l'Italia. I tifosi, gli sportivi, il gelese comune, francamente, hanno dimostrato di averlo compreso benissimo questo semplicissimo concetto, un po' meno la politica locale, molto ma molto meno, invece, la classe imprenditoriale gelese, che continua, colpevolmente, a girarsi dall'altra parte rispetto all'attenzione che, invece, merita questa realtà sportiva. C'è tempo, per fortuna, per rimediare e per correggere certi atteggiamenti sicuramente strafottenti, che si badi bene, non sono tali in quanto rivolti alla squadra di calcio come in questo caso, ma più in generale lo sono nei confronti della città, nella quale operano imprenditori che, nonostante la indiscussa grave crisi che si sta vivendo, sono comunque, e per esclusivi meriti loro, leader addirittura mondiali nel settore di attività in cui operano. Cambiare mentalità per cambiare meglio la città, insomma, secondo noi passa anche attraverso certi meccanismi che investono campi, come appunto la squadra di calcio, che rappresentano Gela a livello nazionale. Perché, ripetiamo, niente come il calcio è potente nel diffondere l'immagine di una città. Di Gela, quindi, e non certo solo di calcio, si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale di Canale 10 ha ospitato i principali protagonisti del trionfo del Gela Calcio e quindi il suo presidente, Angelo Tuccio, ma anche l'allenatore dei Biancoazzurri, Totò Brucculeri, artefice della seconda promozione consecutiva alla guida della squadra gelese. E poi due dei pilastri della compagine Biancoazzurra che ha conquistato la Serie D, ossia il capitano e centrocampista Alessandro Bonaffini e l'attaccante e bomber della squadra gelese Maurizio Nassi. A completare il parterre degli ospiti di Agorà, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e l'assessore comunale allo sport Eugenio Catania, a dimostrazione che la politica deve stare vicino alle sue eccellenze, in questo caso sportive, aiutando non già con meri contributi economici come si faceva in passato, ma mettendo a disposizione impianti sportivi idonei e dignitosi per sviluppare un progetto sportivo serio. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social. Agorà tornerà in diretta, come sempre, in prima serata venerdì prossimo con ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i gelesi.